Tutti ragazzi io sono Wory e oggi vi farò vedere un nuovo glitch su come entrare nel Titan. Oggi siamo in compagnia del mio amico Antonio e allora per fare questi glitch per prima cosa non dovrete avere nessun dollaro in tasca quindi tutti in banca e una volta arrivati al Titan andare verso il torno. Poi spingete Y e fate aprire la porta poi correte via senza che il vostro personale si vede. Una volta che l'avete fatta andrete su Brucey e lo chiamate e lui vi risponderà. Vi dovete mettere nella posizione in cui c'è l'ala quindi perfettamente allineate questa sola. Poi spingete Y e il vostro personale salirà appena sarete lì, esattamente qui dove c'è il botto. Qui c'è questo piccolo spazio prima di entrare. Dovrete andare lì e tenere sempre la chiamata di Brucey attiva. Ora vi farà salire e salire dietro il caldo. Dovrete chiamare Brucey, allinearvi con l'ala. Spingere Y. Appena sarete qui spingete A e il vostro Brucey fermerà il vostro personaggio qua. Voi saltate su e andate avanti e sarete dentro. Qua basterà spingere X per il vostro personaggio salirà dentro. Io sono dentro e adesso lo facciamo provare a mio amico e ci vediamo se vuoi provare un tuo a pari. Io sono in Brucey. Sì, Brucey non è... Cosa è successo? Apri la porta. Sì. Ti metti in linea con l'ala reale e appena sei in quello spazio dove c'è quella piccola cosa grigia mentre sta entrando il tuo personaggio che è ora dentro ormai. E spingi A e ti dice io non hai soldi per prendere... non hai i GTA dollari, ok? Dopo spingi B, ti trovi lì dentro il tuo personaggio, dopo scendi e vieni... dopo scendi e c'hai... si vede il mio personaggio dentro. Intanto... Inegatito, come si fa? Più o meno, dalle... Ok, ci sono dentro. Bene, eccoci qua. Siamo io dentro. Ok, ci ha fatto salvare in aria. Va bene, vi salutiamo così. Ciao, al prossimo video. Ciao. 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 Grazie.